Musica Ancora bentrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, un chilometro di coda per lavori tra BV11 e Firenze Scandicci verso Roma. Qualche problema sulla Firenze Mare in direzione di Firenze? Troviamo code per traffico tra Prato Ovest e BV11A1, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e all'altezza del BV11A1 provenendo da Pisa. Infi, pilico da tratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Ultima pagina, ricordiamo che quest'oggi è in corso con varie modalità di adesione uno sciopero del trasporto pubblico, possibili disagi per chi si muove in treno, autobus o aereo. La tramvia a Firenze è garantita fino alle 9.30 di questa mattina e in orario 17.20. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! 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 Grazie!